ciao a tutti sono candida nel video di oggi voglio voglio proporvi come decorare una una scatola in legno questa è una scatola in legno riciclata che io ho già decorato con il allegro grigio chiaro di stamperia e nella parte nella parte sopra ho dato velocemente insieme ad il grigio qualche pennellata di bianco sempre di allegro stamperia vi ho risparmiato il procedimento comunque l'ho praticamente pitturata sia dentro che fuori tutta di questo grigio per decorarla ho deciso di utilizzare questa carta di riso stamperia che trovo veramente bellissima dopodiché utilizzerò questa questo stencil sempre di stamperia per per fare il mio contorno e voglio provare ad utilizzare questo pizzo sempre di stamperia vi faccio vedere per praticamente realizzare il vestito della mia della mia ragazza a questo punto procediamo con la realizzazione della mia scatola la mia scatola a questo punto procediamo con la realizzazione della mia scatola a questo punto la mia scatola a questo puntoèle è un'azienda di ricche il cattola a questo punto procediamo con la realizzazione della mia scatola a questo punto la mia scatola a questo punto procediamo con la realizzazione della mia scatola a questo punto 原 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.